Il Museo Marino Marini di Firenze è una piazza inclusiva in cui le persone si incontrano, ascoltano, parlano, sorridono. Puoi prenotare insieme ad altre persone l'attività Vieni a parlare d'arte? Una visita che prevede un educatore insieme a un interprete LIS. Se ti abbiamo incuriosito e vuoi saperne di più, contattaci e partecipa alle nostre iniziative dedicate alle persone sorde e con disturbi uditivi.